Ciao a tutti ragazzi, sono Mefa, benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Prima di iniziare il video ragazzi, volevo ringraziare voi per i 100 iscritti, veramente grazie mille Questo qua diciamo è un ringraziamento, ma non è assolutamente lo speciale Aspettate che sistemo un ottimo il telefono che ce l'ho un po' Ok, adesso va meglio Salve, ciao, grazie ragazzi Più avanti farò lo speciale per chi si chiede più avanti Semplicemente per non tornare indietro con gli iscritti Per evitare appunto di perderne Perché non avrebbe senso fare uno speciale 100 per poi cadere di iscritti Però raga, l'idea ce l'ho già Ragazzi, tornando a noi Oggi siamo qua su Minecraft in un mondo sopravvivenza È il secondo video che sto registrando di Minecraft Ma un altro l'ho eliminato perché non mi era piaciuto come era venuto Ma non importa Partiamo dal fatto che questo mondo è fantastico Quello che vi volevo dire è che nella scorsa registrazione Stavo costruendo un rifugio Mi ero anche preso il punto di riferimento Che ora sinceramente non ricordo dov'è Con esattezza Ma ragazzi, fatemi un piacere sotto nei commenti Scrivetemi cos'è che cambia tra Minecraft del PC E quello, insomma, per mobile Perché mi sembra che si possa volare In modalità sopravvivenza Su PC Credo e poi mi possono anche sbagliare Io non lo so In quanto io non l'abbia mai provata Ma io mi sono perso ragazzi Dov'è che sto andando? Non lo so Ci sono degli zombie Stavo camminando tranquillamente E poi mi sono ritrovato qua all'improvviso Non vedo un bel niente ragazzi In questo video non l'ho ancora letto Ma vorrei cercare di costruire Dei nasconditi Ci sono degli zombie ragazzi Non so se li vedete ma Aspettate Cos'è stato? No! Dov'è? 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 Non vedo niente ragazzi Sto andando totalmente a caso Eccolo lì lo zombie Eccolo lì Eccolo lì Eccolo lì Eccolo lì Eccolo lì Adesso dobbiamo buttarci Non abbiamo altra scelta No! No! Scappa! 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 No raga Ne ho visto un altro che mi correva Sembrava un ninja Sembrava Ah no raga E' ancora là che ci sta seguendo Dobbiamo scappare Dobbiamo andare dall'altro lato Effettivamente No! Ce n'è un altro ragazzi Ma quello là credo sia un uomo Non... Oh no raga Cos'è sta roba gialla Un teletubbies? No 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 cos'era cos'era quello cos'era cos'era non vedo non ci credo dov'è che sono finito? Un villaggio sperdoso? Un villaggio esperduto? No 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 ragazzi Ma quanto crespi da e veloce e un ninja!? mamma mia cosa c'è lì attenzione la lava la intanto c'è una lino che non ci vede ma che figata e ragazzi questa non è che magari ci sia qualche zombie che ci vuole fare cos'è stato cos'era quello cosa è stato io non vedo niente oh my god raga cos'è stato ma perché ah è un arciere no infatti non capivo la ci sono altri zombie torniamo indietro andiamo di qua lì c'è una pecorella bravissima che non fa niente vabbè è buona quella che ne dite tipo di mettere un rifugio qua dentro sarebbe tipo ipico direi allora togliamo questo mettiamo questo qui togliamo questo e qua dentro ci troviamo questo ah che bel rifugio va bene ragazzi dov'è che ce lo possiamo fare zona interessante devo dire no c'è un'arciere ragazzi oh my god no 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 scappa 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 mi fa no che spa mi sono preso un colpo che non avete idea raga un altro arciere non ci credo ok un maiale innocente al 100 per cento e non ci vediamo appena beccato un posto buono per fare un rifugio senza zombie possibilmente questo ad esempio no non mi fido raga poi questo raga questo va benissimo questo si trovato ovviamente dovrò lavorarci quindi ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto consigliatemi ragazzi delle formule per trovare insomma il vetro o altri materiali vari spero che il video vi sia piaciuto se così fosse lasciate un bel like e un commento iscrivetevi ai social che trovate qua sotto in descrizione condividete il video se vi è piaciuto è la stessa cosa anche col canale e di social nel prossimo video mi impegnerò di più a costruire ve lo prometto no perchè raga c'è i zombie sono ovunque vabbè non importa ragazzi alla prossima